Ed eccoci qui, appena finita la peta del Bologna, mamma mia che partita direi, tranne quelle di oggi che hanno fatto letteralmente schifo, 0-0 entrambe le partite, Impoligeno, Vinicius e Monza, però Fosino né Milan, né Bologna, Sassuolo, mamma mia, top, queste le partite che mi piacciono di più, peccato che avevo una singola, ma come al solito, quando le gioco non vanno mai in porto, quando non le gioco vanno sempre tutto in porto, va, multigol 2-4 casa, più multigol, 0-1, porca puttana, se mi accontentato 0-2 era Cass, 1-80, invece era 2, tocca accontentarsi, delle volte tocca anche accontentarsi, oppure c'era over 2,5, 2 anche, è stato proprio stupido, qui, errore è il mio, perché l'over 2,5 era quasi scontato, così come il gol anche, è un che cosa giocante a sta partita già in porto, invece io ma la dicembre ha complicato tutto, comunque parlando anche del Milan, oggi il Milan sale e scendi, mamma mia, però belle le partite, con Di Giroud, poi Suré, Mazzitelli, Gabbia e Jovic, che tanti dicono che era scarso, Jovic intanto segna sempre, alla faccia di chi discorrea tanto, e il Bologna che va sotto addirittura 2-0, questo è il segno che non è il Bologna come dicevo tempo fa, in Bologna qualunque questo, questo è in Bologna con i controcazzi e con un allenatore 8-top che se tante volte non dovesse andare bene dei rossi ci butteria più lenocchio, gol di Torsvert per il Sassuolo, poi Viti, autogol, Volpato, segna, ex Roma, non siamo molto bene, sono contento per lui, gol di Fabian e Salemeckers, Ferguson e Salemeckers, ragazzi il Bologna c'è una squadra che solo questi che ho nominato valgono tutta la squadra secondo me, davvero giocano, si divertono, anche sotto continuano a giocare, quindi direi che davvero una squadra bella la vedi, sinceramente parlando, ad escapito ovviamente nostro che se lotti per il quarto posto c'è anche il Bologna che ci ha superato da un punto, tanti dicono al Bologna manco lo considero, intanto però passano le giornate, continuano a vincere a portare a punti, quindi attenzione, magari adesso non ti dico che arriverà in Champions ma magari in una conferenza la potrebbe anche fare secondo me, poi vedremo, anche se c'è una grande bagarre, quindi è tutto di venire, previsioni dato qui su sto campionato la Serie A stanno è davvero difficile farne, perché è tutto un equilibrio sopra la follia mi vorrebbe anche, porca puttana, anche in zona retrocessione davvero tutto l'Empoli che sta prendendo punti piano piano con l'allenatore di Nicola che anche oggi intanto uno 0 a 0 lo strappa col Genoa, anche se non è stata una gran partita come la stessa Udinese Monza, Monza che non mi è piaciuto, che anche sinceramente il vedo un po' in panni la stessa cosa al Frosinone che gioca, si però concede tantissime attenzione perché se viene risucchiato poi non è facile a tirarsi fuori dalla zona retrocessione, stessa cosa l'Udinese che è tutt'altra Udinese di parecchi anni fa con Di Natale, Sanchez eccetera davvero l'Udinese ultimi anni insomma se devo dire a mia, non è più l'Udinese di una volta e quindi niente belle partite queste del Bologna e del del Milan ma sono divertito a vederle anche se sinceramente non sto benissimo per carità sono proprio fanfranto però vabbè me tengo in piedi col calcio e quindi niente queste erano le partite di oggi domani vedremo chi gioca attimo al solito qui sempre un casino vedremo allora mettiamo calendario allora domani a mezzogiorno e mezzo c'è Torino, Saranetana, Napoli, Verona, Atalanta, Lazio, Inter, Juve e Roma, Cagliari allora cominciamo intanto con Torino, Saranetana poi il resto domani Torino, Saranetana per me è 1x 1x più over 1 e mezzo molti gol 1 3 casa senza scappa però attenzione perché se la Saranetana dovesse giocare come ha giocato con la Roma potrebbe anche segnare vedremo però c'è la dire anche che ogni partita fa storia si può essere che gioca bene può essere che gioca male può essere che ne piatri quindi anche da over 2 e mezzo vedremo vedremo quali questi pronostici ho preso e quindi niente questo è tutto appuntamento a domani appuntamento a domani